a raccontare tutti i pericoli di ti amo perché pensiamo che sia una cosa bella da usare da scrivere cuori cuori cuoricini no però mi sembra che di capire che una delle delle parole più pericolose perché tutti i pericoli di ti amo possiamo già incominciare ti amo diventa una dichiarazione non ci sono santi in questa dichiarazione c'è un progetto perché c'è il desiderio di vivere insieme di trasferire le proprie emozioni all'altro mettiamo c'è una visione di vita che può essere fatta insieme cioè diciamo così che in questo ti amo due piccole parole c'è un po tutto il nostro mondo degli affetti delle proiezioni di vita ecco si può capire bene che in queste due parole c'è una grande propensione verso il futuro ma anche un grande dramma perché possono essere due piccole parole pericolosissime si può essere presi in giro si può essere smentiti è come dire una cambiale che in fondo uno vorrebbe che venisse magari saldata subito cioè è molto compromissorio ecco la parola ti amo le piccole espressioni ti amo tutto sommato sempre meglio trattenersela trattenersela dire quando si è proprio molto sicuri e quando anche si è molto sicuri proprio la parola ti amo mette il dubbio perché riflettiamo su questo c'è bisogno di dirlo ecco qui tutta la pericolosità e l'ambiguità dell'espressione ma non è più sarebbe vero più autentico naturale che questo sentimento così profondo venisse percepito anziché doverlo dichiarare e allora una volta che tu lo dichiari non potrebbe anche essere una testimonianza di inadeguatezza che tutto sommato si vuol dire quello che non si riesce a comunicare ecco perché dire ti amo è sempre molto rischioso perché può essere molto frainteso e dire ti amo può essere anche preso invece parte molto problematica che ti può dire ma scusa mi dici che mi ami ma dai fatti dalle cose dalle azioni che vedo tutto tutto può essere ma non che mi ami questo in questa italia che utilizza la parola scritto il suo libro si intitola il nome dell'amore si potrebbe aggiungere anche votami il nome dell'amore no che alla fine abbiamo preso questo sentimento che dovrebbe essere universale poi invece mi sembra lo si stia usando per tutt'altro altro scopo altra motivazione diventa più sociologia politica che sentimenti tra due persone beh guardi che qui dipende molto da come si costruisce in questi casi la struttura di un pensiero e quindi di un libro io ho scritto tanto sulla bellezza la bellezza è un concetto filosofico oltre che ovviamente una realtà percettiva estetica che va di pari passo nella storia della nostra cultura con la parola amore sull'amore è il primo libro e forse sarà anche ultimo che che scrivo perché se io vado a vedere la sterminata bibliografia della parola amore vedo appunto che è sempre interpretata da un punto di vista della psicologia della psicanalisi oppure appunto da una prospettiva sociologica ad ampio raggio io ho voluto invece parlare dell'amore sotto la prospettiva completamente diversa da quella che può essere nella visione patologica di uno psicologo oppure a mente quantitativa funzionale di un sociologo ho cercato di aiutarmi con la nostra grande tradizione classica quindi i miti quindi poi la grande filosofia poi la grande narrativa e poi anche su cose piccole molto più elementari alla mano per esempio i testi di alcune canzoni che hanno fatto epoca oppure di film altrettanto che hanno fatto epoca ecco quindi viene fuori io credo un quadro in cui in realtà attraverso l'amore interpreto la vita però si può un'altra questione quale amore è perché esiste un amore passionale un amore romantico un amore sentimentale un amore narcisistico l'amore dell'amore e amori sbagliati ecco quindi ho fatto come dire una rassegna di come interpretare le diverse forme dell'amore la cronaca si porta a pensare in qualche modo a due tipi di amori quell'amore tossico che poi scaturisce nei fatti di cronaca che tutti quanti purtroppo vediamo no che abbiamo visto che che magari non riusciamo a mettere nella stessa frase con la parola amore e poi invece un altro tipo di amore perché abbiamo sdoganato tante cose che è quello che non so diciamo della vendita dell'amore attraverso alle app attraverso i telefonini che diventa tutto più semplice tutto più a cattivo mercato ecco diciamo così in qualche modo la tossicità dell'amore io la considero una delle tante forme di amori sbagliati dove c'è un'attenzione generalmente molto narcisistica sul proprio io e l'idea che l'altro mi debba seguire oppure debba essere orientato in una determinata direzione proprio questi amori sono i più pericolosi che avrebbero bisogno di un'educazione sentimentale che è uno dei capitoli a cui ci tengo di più di questo libro perché probabilmente non si sa più bene che cosa sia l'educazione sentimentale anche perché la si confonde con l'educazione sessuale che è tutt'altra cosa e proprio questo ci porta a questa sua seconda questione l'amore è indubbiamente una forma che ha bisogno di una comunicazione abbiamo cominciato con l'espressione ti amo ma è un'espressione che può essere veicolata fondamentalmente attraverso tante forme tecniche dalla semplice parola appunto al telefono ai whatsapp eccetera eccetera oggi c'è una indiscutibile semplificazione dei processi di comunicazione per certi versi io ho una grande invidia per i giovani di oggi che hanno la possibilità di comunicare con molta cederità e con molta semplicità rispetto ai miei tempi in cui esisteva un telefono in casa e questo telefono spesso occupato oppure dovevi andare una cabina telefonica la quale spesso era rotto oppure ti mancavano i gettoni e c'era tutta una trafila di procedure che diventava assolutamente complessa e non va dimenticata la lettera la lettera in cui ci si dichiarava e quanto tempo si aspettava per avere la risposta perché la lettera finiva per essere una testimonianza molto più approfondita dei propri della dichiarazione dei propri sentimenti ecco dicevo una invidia per la celerità con cui oggi si comunica con attraverso il whatsapp attraverso youtube attraverso il tik tok attraverso tutte queste piattaforme elettroniche certo come sempre tutto dipende dall'intelligenza dalla sensibilità di una persona e da questa sensibilità intelligenza dipende il modo di utilizzare il supporto come si suol dire elettronico cioè se una persona è profonda ha una sua sensibilità questa profondità e sensibilità non viene sminuita da la comunicazione informatica anzi magari ha una possibilità forse in più per poter dire qualche cosa se uno è un superficiale certo questi sistemi rendano ancora più superficiale la comunicazione ecco quindi questo a mio parere è un po l'equilibrio come sempre sempre dobbiamo capire che tutti i temi legati alla tecnologia e compreso la comunicazione d'amore dipende sempre molto da come ci si trova con se stessi come qual è la propria autenticità qual è il proprio anche la propria cultura da poter trasmettere all'altro e termino dicendo che in genere sono contrarissimo alla demonizzazione di questi sistemi questi sistemi possono essere straordinari se le persone non hanno diciamo così dei deficit cognitivi deficit cognitivi sembra quasi rivolta a parecchi perde l'amore se lo scriviamo con un tvb e un cuore rosso c'è tra la tra gli acronimi e l'emoticon quella che era la lettera d'amore magari lunga ridotto ad un acronimo ed un emote beh dipende un po da quello che ci sta dietro se lo stesso sentimento forte lo vuoi esprimere se dietro c'è una una storia che è stata comunicata sì perché no ma anche senza questa storia può incuriosire torno a dire mondo va avanti quindi una nostalgia del passato la venerazione delle ceneri di un tempo su sempre cose patetiche credo sempre con una certa visione direi pure ottimista che se una persona sensibilità e intelligenza sa usare molto bene anche questi piccoli spedienti di acronomi acronimi perché no ricevere un cuoricino una cosa molto molto bella anche da un punto di vista estetico e quindi tutto dipende poi da quello che ci può essere prima da quello che ci può essere dopo lasciare un cuoricino così beh può anche essere bello perché mette in sospeso una attesa ecco perché no questa è una domanda che nasce tra virgolette che la possono capire solo i miei coetanei in qualche modo la comunicazione sicuramente influisce io sto a metà tra la generazione di test di se telefonando e quella generazione invece che ha conosciuto tue sore stefano zecchi anche attraverso la tv generalista di ecco maurizio costanzo prima di mentre preparavo questa intervista un po google altro provato a capire e mi è uscito anche uno spezzone no rivisto con piacere di un suo intervento al maurizio costanzo show ecco no le volevo chiedere una domanda che poi esce un po dal libro una sua riflessione un po su quella che è questa nostra italia che esce dalla pandemia vive questa orgia di dover riuscire di dover recuperare questi due anni persi nei sentimenti nei lavori nelle imprese e poi magari ecco finita questa questa euforia no come le bollicine adesso c'è questa nuova normalità da prendere perché abbiamo fatto la lotta per i green pass le mascherine poi i vaccini poi ha detto finalmente non c'è più ma adesso siamo nella normalità ma non ci troviamo più perché gli ingranaggi si sono rotti in qualche modo ma evoca un momento drammatico che era imprevedibile quindi quando una cosa imprevedibile non si è neppure ha ovviamente attrezzati a sostenerne l'urto e così si è anche impreparati all'uscita da queste situazioni da cui imprevedibilità non era assolutamente compresa e diciamo così semplifico molto intanto godiamoci sto momento qui sappiamo che bisognerebbe sapere che in fondo la vita è effimera quindi va vissuta con serietà e con intensità e anche con quel minimo di leggerezza che la vita stessa richiede c'è un grande filosofo che io amo molto Gottfried Penn che diceva solo chi ha conosciuto la profondità della vita sa essere leggero e quindi perché no insomma questa euforia che vedo soprattutto nei giovani va bene perché loro hanno perso un paio d'anni indubbiamente della loro vita e non ci sono santi quello che era stata la scuola che ha dovuto chiudere quindi non ha formato io francamente grazie al cielo sono stato bene me ne stavo a casa anzi leggevo di più scrivevo di più le call ti avevano aiutato a metterti in relazione con gli altri insomma certo è questo vede in questa sua domanda c'è una una questione che secondo me è complicatissima cambierà il lavoro il lavoro cambierà perché la tecnologia che è stata utilizzata in quel periodo sarà una tecnologia che verrà continuamente utilizzata e approfondita e aumentata perché rende e perché economicamente più vantaggiosa non ci saranno più io lo vedo già nelle zone delle realtà economiche che frequento non ci saranno più i grandi spazi lavorativi si starà più a casa e cambierà anche il tipo di abitazione il tipo di abitazione se mi dicevano tutti cercano almeno un terrazzino cioè una parte esterna tutti cercano almeno un piccolo spazio da potersi ritirare per poter lavorare ecco diciamo così c'è un'euforia come dice lei dell'uscita del sole del mare del bel tempo e c'è però una forte forte attenzione a una nuova modalità di lavoro che quella si credo modificherà nel tempo molto profondamente le nostre abitudini così come mi pare che questa situazione sia analoga a quella rivoluzione che era stata vissuta intorno alla fine dell'ottocento in cui le campagne venivano spopolate da persone che si trasferivano a lavorare in città è segno dei tempi pure i segnali che ci arrivano un po dalle canzoni no ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me tutto questo sempre amore e ha un impatto anche sull'amore comunque se c'è una cosa eterna sarà proprio l'amore la dichiarazione l'amore i tipi di amore cioè il vero centro della nostra esistenza senza tener conto che si sembra tutto così felice bacio qua bacio la bacio su bacio giù ma l'amore è sofferenza l'amore rende infelici l'amore è un momento in cui tu esci a te stesso cerchi di incontrare l'altra persona di comunicare a talvolta poi le tue debolezze talvolta le tue speranze l'amore diciamo così anche il vero amore ha sempre una traccia di infelicità e quindi quando canzonette si può che ti qui tra l'altro ho anche analizzato nel libro alcune canzoni come palmi d'amore mario oppure dell'amore di piatta ma magari edulcorano una situazione poi la profondità è questa e la verità è che l'amore è sofferenza e quando finisce un amore è sofferenza la cosa curiosa è proprio questo che noi cerchiamo l'amore pur sapendo che nell'amore c'è la sofferenza e pur l'altro cerchiamo e questo è il destino dell'essere umano non esce fuori da questo non si può uscire da questo quindi al di là dell'amore nei confronti dell'altro dell'altra si pensa appunto l'amore per chi uno con cui un investe una propria impresa una propria attività una propria iniziativa tutta l'energia che ci mette per realizzarla la sofferenza di non vedere i risultati che vorrebbe o la paura che appunto quei risultati ottenuti finissero l'amore sempre sofferenza quindi sofferenza e sofferenza è il momento in cui possiamo parlare delle persone in cui parte l'iniziativa il grande progetto il grande ideale da realizzare con tutti i dubbi che questo può comportare e la sofferenza è molto facile da comprendere quando questo fallisce quindi non ce ne usciamo no no non ce ne usciamo dobbiamo è abbastanza non ne usciamo vuol dire anche rassegnarci con una certa semplicità all'amore cioè io ho citato una dichiarazione che che Goethe fa ultraottoagenario era andato in una stazione termale Baden-Baden e incontra una baronessa più o meno della sua età e si innamora e si innamorano e la riflessione di Goethe è che non c'è niente da fare ci si innamora a tutta l'età sempre cioè non bisogna in questi casi resistere all'amore perché sarebbe un'altra sofferenza che differenza c'è giusto in conclusione senza senza mi immagino la domanda aprirà tanto tanto però diciamo con un tweet ecco come si suol dire qual è la differenza tra amore e innamoramento? beh lì Alberone è stato un maestro eh perché ha spiegato molto bene i processi di che che fanno germogliare il sentimento e i processi in cui c'è una stabilizzazione del sentimento ecco lui in qualche modo ha spiegato questa questa distinzione io francamente non è che la seguo così fedelmente anzi io penso che siano più o meno sempre le stesse cose uno si innamora e quell'amore lo porta avanti e l'amore resta proprio perché c'è la capacità di cambiarlo per modificare le diverse forme di sentimento amoroso quindi non non vedo un prima o un dopo vedo una continua tensione alla modificazione perché è la vita stessa cioè ami perché è la vita stessa quindi è chiaro che ci sono delle forme di amore che cambiano nella vita diventano talvolta quando sentono matrimoni che sono durati quarant'anni trent'anni ma anche vent'anni è chiaro che diventano sono delle forme di solidarietà e allora lì cambia l'atteggiamento dell'amore ma è proprio l'amore che cambia non c'è diciamo così un nucleo iniziale che spinge la situazione e poi uno che si consolida no l'amore continua non si consolida mai niente perché se si consolida si va verso un'altra dimensione che può essere appunto nell'attenzione per l'altro la capacità di aiutarlo sono altre cose